Buongiorno e ben trovati in questa edizione di Mattino 6, giovedì 19 dicembre 2019. Subito con le prime pagine delle testate locali per iniziare la nostra consueto rassegna stampa. Il centro edizione di Pescara apre con la cronaca donna trovata morta e mistero. Pescara, 56 anni, era in un lago di sangue in un casolare abbandonato. Sotto la testata sbarca a San Giovanni Teatino, Amazon apre la sede in Abruzzo, pronte oltre 100 assunzioni. E poi ancora bilancio Abruzzo, lega stop della regione alle quattro leggi dell'ultima ora. E poi ancora domenica e lunedì Salvini raddoppia dopo Chieti, va a Pescara. Scendiamo, la fotonotizia è legata chiaramente al titolo di apertura con la PM, come leggiamo nella diascalia. La PM Anna Benigni che si è recata proprio con gli uomini della mobile nei pressi del casolare dove è stata trovata morta questa donna di 56 anni. Andiamo a vedere i richiami di cronaca. Il 27 c'è il decollo presso l'aeroporto d'Abruzzo. Il primo volo dall'Abruzzo per Abu Dhabi. L'aeroporto si dota del nuovo sito, la saga annuncia per fine mese il progetto della megapista e intanto si parte per gli Emirati Arabi. Sempre a Pescara, strada parco con i bus, i test del Ministero. In Pullman da Francavilla a Roma, linea entro l'estate. E poi ancora domani apre il ponte sul Saline. A Montesilvano stendirà il traffico sulla nazionale prevista una pista ciclopedonale. Scendiamo in taglio basso, siamo allo Sport. Pescara verso la sfida con il Trapani. Galano indica la strada giusta, l'attaccante. Dobbiamo avere più coraggio e diventare cinici. E poi ancora, sempre in taglio basso, intervista e live. Simona Molinari, canto per l'Abruzzo. Andiamo avanti, siamo sulla prima pagina di Chieti Lanciano Vasto del centro. L'apertura, un vertice segreto per le elezioni. Chieti, ecco chi si candida per costruire l'alternativa al centro-destra. E poi la fotonotizia a centro pagina. L'ultimo saluto all'arcivescovo che sognava la chiesa libera. Lanciano Basilica Gremita al funerale di Monsignor Enzio D'Antonio. E poi ancora con i richiami a Rapino, gli affari d'oro dei pendolari, dei rave party. A Vasto arriva il binario portostazione per le industrie. E poi ancora la cronaca perde tutto alle slot e assalta il locale. A Chieti, opereo di 53 anni, sfonda la porta e ruba la macchinetta. Cambia soldi, arrestato. Lo sport in taglio basso con il calcio femminile. Campionato di Serie C, Chieti-Pescara. Derby tra donne, sabato si gioca a Francavilla. In paglio c'è il secondo posto. Andiamo sull'edizione di Teramo del centro. L'apertura, caos, viadotto, appello dei sindaci. A 14 da Roseto, lettera al giudice per il dissequestro del tratto di autostrada. A centro pagina, la fotonotizia chiude la fabbrica dei prosciutti. Persi 50 posti di lavoro a Colledara. L'attività si ferma a fine anno. E poi ancora i richiami a Teramo. Poche adozioni, sono state solo 101 in 18 anni. A Silvi, barriere contro il rumore sulla ferrovia. Torniamo poi alla cronaca. Lite con coltello nel parcheggio. Anziano Teramano armato minaccia una donna all'esterno di un supermercato. In taglio basso, niente intesa sulla defiscalizzazione per i club. Sciopero, il Teramo non gioca. La Serie C ferma. I biancorossi tornano in campo nel 2020. Andiamo avanti sull'edizione dell'Aquila. Del centro, ecco l'apertura. Stress dopo il crollo. Sarà risarcita casa dello studente dell'Aquila. 50 mila euro alla giovane estratta viva dalle macerie. La foto notizia, un itinerario tra storia e arte da Colle Maggio all'Antica Amiternum, il programma turistico del comune dell'Aquila. Andiamo sui richiami. Sempre all'Aquila in orbita radar realizzato da Tales Alenia. Ad Avezzano, riaccensione del semaforo. Coro di critiche. E poi ancora, addio alla voce delle calze nere a Pescina stroncato da infarto. Vincenzo Delia aveva 69 anni. Oggi alle 15 i funerali. E poi ancora a Pescasseroli, parco e morta l'Orsa Lauretta. Il plantigrado era la mascotte del centro visite del parco nazionale d'Abruzzo. Andiamo avanti e siamo alla prima pagina del messaggero Abruzzo. La cronaca in apertura trovata con la testa fracassata a Pescara sul lungo fiume il corpo di una 56enne polacca. Le ipotesi, delitto o caduta? È successo in un rudere vicino all'ex Draga. Ha interrogato l'uomo che ha dato l'allarme. E poi ancora sul fronte della crisi popolare di Bari, la difesa di Giulio Cesare Sottanelli, presidente e fondatore della Banca di Credito Cooperativo del Gran Sasso d'Italia. Tercas non affondò la popolare di Bari. Andiamo ai richiami sotto la testata per la politica. Salvini due giorni in Abruzzo, domenica a Chieti e lunedì a Pescara. E poi Teramo, malattia rara, l'appello di una nonna per il nipotino. Per lo sport, calcio di serie B, Capitano Fiorillo, la vera festa. Voglio ritornare tra i pali, nel mirino del portiere del Delfino, il match di Santo Stefano e Livorno. Con Trapani, Toscani e Chievo, tre partite top. Dovremo essere pronti. Andiamo di spalla, ospedali, cambia tutto bilancio. Niente spese, i revisori dei conti della regione bloccano ogni investimento. Siamo in taglio medio, la fotonotizia, morta l'orsa lauretta, simbolo del parco. L'animale era ospite del centro visite di Pescasseroli. E poi ancora, in Gorghin a 14, i pendolari ridatici, i soldi, maxi ritardi sul lavoro per i rallentamenti. Piovono richieste di restituzione dei pedaggi. E poi ancora, occhio alla rete natale, regali blef in campo, la polizia. E poi ancora, la prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo. Ecco l'apertura, chiarezza sulle case agli sfollati. Il sindaco frena, l'ater conferma. La politica si divide in certezza sui tempi dell'assegnazione. Pari opportunità, fondazione senza quota rosa almeno, fino al prossimo CDA. E poi andiamo a centro pagina, con la fotonotizia. Tempio crematorio. La TEAM rilancia l'impianto di cremazione a Cartecchio. Quindi una serie di richiami. Intanto sul fronte sanità e ospedali, tagli. Il governo apre alla modifica della legge Lorenzin. Per il sociale, adozioni e affidi. Ecco i numeri del capoluogo. Poi sul fronte economia, popolare di Bari. Proteste davanti alla sede. Commissari in procura. A Teramo, accertamenti alla mensa del San Giorgio. E poi ancora, per lo sport, confermato lo sciopero della Serie C. La Lega Pro si ferma, niente partite sabato e domenica. In taglio basso, questi altri tre richiami. Erosione al Badriatica prosegue con il ripascimento della Costa Erosa dalle Mareggiate. A Giulianova approvate le tariffe per la tassa di soggiorno da 80 centesimi a 2 euro. E poi a Roseto degli Abruzzi bastano 20 metri di dissequestro per riaprire il casello della A14. Andiamo ora con i quotidiani nazionali. Facciamo questo excursus partendo chiaramente dal Corriere della Sera. Ecco qui, nell'apertura c'è il referendum. Fermato il taglio dei parlamentari. Lannutti rinuncia alla Commissione Banche di Maio. Diremo sì al processo per Salvini. E poi ancora, per lo sport, sotto la testata battuta la Samp, il volo di Ronaldo fa salire la Juventus al primo posto. La fotonotizia dedicata appunto al Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Trump, abuso di potere per quanto riguarda la vicenda impeachment. Ormai l'incriminazione è stata votata. Pelosi attacca il voto nella notte. E poi ancora di spalla la fusione, la nascita di FCA Peugeot, il quarto gruppo al mondo. Due lavoratori nel Consiglio d'Amministrazione. E poi ancora la prima pagina di Repubblica. Ecco qui l'apertura, lo sfogo di Salini. I partiti bloccano la mia RAI. L'amministratore delegato dice ferme nomine e riforme, così non siamo competitivi. Mattarella sferza la politica. Menoliti va fatto di più su clima, giovani e lavoro. Nel Movimento 5 Stelle, 11 senatori pronti alla scissione. Ma voteremo per Conte. Poi ancora di spalla la fusione appunto tra FCA e Peugeot. Le nozze dell'auto in cerca di futuro. Via all'alleanza da 8,7 milioni di vetture. Nel CdA anche i dipendenti. Sfida sui modelli verdi. E poi ancora in taglio medio. La Camera ha deciso nella notte Trump incriminato, sì, all'impeachment. I democratici. Lui minaccia la democrazia. Ira del Presidente. È un attacco all'America. E poi ancora questo reportage di Sergio Rizzo. A Norcia il terremoto non è mai finito. Proseguiamo. E siamo sulla prima del fatto quotidiano. Ecco l'apertura. 64 salva poltrona. La Lega li perdona. Referendum contro il taglio degli eletti. E poi ancora linea Mattarella. Il Colle. Tenere distinti. Governo e referendum. E poi il caso Nave Gregoretti. Di Maio Sclerica Salvini. Diremo sì al processo. In taglio basso. I PM dopo la svolta del Papa. Ora le carte su Don Franco. Da Genova può partire l'effetto domino. Il primo caso ad avere ripercussioni con l'abolizione del segreto pontificio. Sarà quello svelato dalla nostra inchiesta. Dalla inchiesta del fatto quotidiano. Inchiesta speciale sugli abusi nella diocesi Ligure. Andiamo avanti. Siamo sulla prima pagina di Libero. Ecco l'apertura. I grillini vogliono Salvini in galera. Di Maio decide di processarlo. Matteo è accusato di sequestro di persona per aver fermato i clandestini. 5 Stelle che sostenne l'ex alleato. Ora lo pugnala per ringraziarsi il PD. Il capitano. Ho difeso il mio paese. Mi indagano. Vergogna. E poi questa doppia foto notizia in taglio medio. Fioramonti lascia il ministero. Ce ne faremo una ragione. Zero fondi all'istruzione. Pentastellato in uscite. Poi John Elkan chiama in paradiso gli operai. Un posto ai lavoratori nel CDA della nuova Fiat. E poi ancora di spalla. Elezioni più vicine. C'è il referendum sul taglia onorevoli. Il Movimento 5 Stelle sta tremando. Andiamo ora sulla prima pagina del manifesto che apre così privati di tutto. Mercantili usati per respingere i migranti, poi torturati nei campi libici. La tecnica impiegata nel 2018 dell'Italia per aggirare il diritto internazionale. La complicità di Tripoli e Di Maio. Scarica Salvini per il sequestro dei profughi sulla Gregoretti. Sì all'autorizzazione a procedere. E poi ancora in taglio basso. Gighe ed economy. CGL contro Delivero. L'algoritmo discrimina. Poi la vicenda Trump negli Stati Uniti. Impeachment day. Voto storico dei Dem. Andiamo in taglio alto. Riforme. Un referendum tira l'altro. Taglio dei parlamentari. Legge elettorale. Proseguiamo. E siamo sulla prima pagina del messaggero. L'apertura. Emergenza medici. Ecco il piano. In corsia. Primari ultra settantenni e giovani specializzanti per sopperire alle carenze. Patto per la salute. Stanziati 3,5 miliardi. Arriva l'infermiera a domicilio per i più anziani. Poi per lo sport. Sotto la testata leggiamo. Juve 2-1 alla Samp. La Roma su Ken. Opinamonti. Florenzi in bilico. Spunta il fondo. Cvc. Scendiamo in taglio medio. Referendum sul taglio dei parlamentari. Stop alla riforma. Sfida sul voto anticipato. E Mattarella ai partiti. Dialogo. Priorità. Lavoro. I rischi della riforma. L'autonomia alla carta incostituzionale. E poi il caso Gregoretti. Il dietro fronte 5 Stelle è pronti a dare l'ok al processo Salvini. Scendiamo. Siamo alla fotonotizia. Trump sotto impeachment. Colpo all'America. Ucraina gate. Battaglia alla camera. Verso il sì nella notte. Alla messa in stato d'accusa. Che poi effettivamente è arrivato. Il colosso dell'auto. Le nozze FCA PSA. Primo obiettivo. Conquistare l'Asia. Siamo sulla prima pagina del Sole. 24 ore. L'apertura. Caossa l'Italia. Il governo preoccupati. Le parole del ministro Patuanelli. La società perde ogni mese quasi 2 milioni di euro. Niente regali a Lufthansa. Il costo del personale non determina la perdita. Intervento pubblico non escluso. Si insedia il commissario Leo Grande. E poi ancora l'intervista a Vestager. sul prestito alla compagnia. L'Italia rischia un'altra indagine. Andiamo poi in taglio medio. Fusione FCA PSA agli azionisti. Maxi dividendo da 11 miliardi. Nasce il quarto produttore mondiale. In base ai volumi. E il terzo per fatturato. Agli azionisti Fiat Chrysler. 6,6 miliardi di cedole. I lavoratori nel nuovo CDA. E poi la fotonotizia Napoli-Bari. Il ritardo della TAV rallenta la crescita del sud. Andiamo sulla prima pagina della stampa. Con le parole del premier Conte. FCA PSA serve all'Europa. La governance tutela azionisti, Stato e lavoratori. Creato un polo per lo sviluppo e l'occupazione. Sinergie per oltre 3 miliardi. I cinesi di Dongfeng scendono al 4,5%. La nuova sfida è sull'elettrico. Parla il presidente del Consiglio. Sulla nascita del quarto gruppo automobilistico mondiale. E poi la fotonotizia. Feste al cinema con guerre stellari. Skywalker diventa pulp. E poi l'intervista al numero 2 della commissione UE. Dombrovskis che gela le speranze di Roma. Intervenga sul deficit. Ci sono poi le parole del capogruppo del PD del Rio. Il governo sia più compatto. Diventi una squadra. Andiamo sulla prima pagina del tempo. L'apertura. Il governo si è perso 19 miliardi. Giallo sui conti. Aveva annunciato di averli recuperati con la lotta agli evasori. Poi certifica che quei soldi mancano in 7 anni. Tutti i premier hanno detto di aver scovato 113 miliardi. Ma l'evasione è la stessa del 2012. In taglio medio. Il tempo di Oscio. Referendum antitaglio ai parlamentari. Firmano pure tre senatori grillini. Ma vaf. L'espressione attribuita. Tra virgolette. Via sempre ironica. A Luigi Di Maio. In questa fotonotizia. E poi ancora di spalla. La nave Gregoretti. Oggi il caso in giunta. Movimento 5 Stelle contro l'immunità. Di Maio vuole mandare Salvini dietro le sbarre. E siamo alla prima pagina della verità. Il crack del colosso bancario del sud. Tutti i prestiti allegri di Popolare di Bari. Dal gruppo Tandoi alla Scaraggi Veicoli Industriali. Dalla DRC Costruzioni a Luca Parnasi. Indagato a Roma per le sovvenzioni a PD e Lega. Un fiume di denaro mai tornato indietro. Nell'istituto pure i tesoretti dei magistrati del CSM e dell'Agenzia del Farmaco. Il record di Fusillo. Il fratello di un ex sottosegretario D'Alemiano. 400 milioni. 140 non restituiti. E poi ancora andiamo in taglio medio con la fotonotizia. L'ex ministro Boschi pretende le scuse per i disastri del Babbo. E poi ancora un milione per corsi universitari gender. La manovra non è solo farcita di tasse. Ma anche di provvedimenti ideologici finanziati con i nostri soldi. Lasciamo i quotidiani nazionali e torniamo ai locali. Iniziamo a sfogliare il centro. Qui siamo su pagina 2. Ecco qui il bando per trovare lavoro. Un milione e mezzo di fondi per occupare 500 giovani enti di formazione. Ecco cosa fare per presentare le domande alla regione. Poi in taglio basso leggiamo. Aeroporto il 27 dicembre. Il primo volo per Abu Dhabi. Novità appunto dello scalo abruzzese. Le parole dell'assessore regionale Febbo. Entro fine anno presenteremo il progetto. Il primo step è senza dubbio quello di portare il numero dei passeggeri annui a toccare il milione. E poi ancora aggiunge il presidente Paolini. Con l'allungamento della pista proveremo a introdurre tratte transoceaniche di linea. Come ad esempio collegamenti settimanali con New York o Toronto. E allora andiamo a vedere il servizio realizzato dal TG6. La saga ha presentato questa mattina il nuovo sito internet dell'aeroporto d'Abruzzo che servirà per rendere ancora più fruibile lo scalo aeroportuale. Per l'occasione il presidente della saga Enrico Paolini ha anticipato che il 27 dicembre ci sarà anche un volo da Pescara per Abu Dhabi. Il nuovo sito che è rivolto moltissimo agli utenti e ai passeggeri e come io ho avuto modo di dire ma ne sono profondamente convinto aiuterà una buona informazione, una veloce informazione sui voli, la qualità, la quantità e i prezzi aumenterà il numero dei passeggeri. Come voi colleghi mi ci insegnate una buona informazione veloce aumenta gli utenti e quindi ci aiuta ad arrivare a quel milione di passeggeri insieme ai nuovi voli che stiamo cercando di mettere. Intanto ce n'è uno il 27 dicembre, pochi lo sanno che fa Pescara a Abu Dhabi di sostegno alla compagnia Costa Crociere per cui la gente che parte da Pescara e va in crociera arriverà comodamente in aereo a Abu Dhabi partendo da qui, si farà la sua crociera in nave e da Abu Dhabi tornerà qui. Quindi aerei intercontinentali o comunque di lunga raggio 6-7 ore di percorrenza già ci sono. Il problema è che con l'allungamento della pista e il masterplan noi fra due anni potremo mettere aerei di linea intercontinentali, cioè non stare più alla discrezionalità delle compagnie, dei piloti, del meteo ma avere un Pescara a Toronto con trans a terra di linea regolare una volta alla settimana o con New York una volta alla settimana che è una cosa importantissima che metterà questo aeroporto al di sopra di molti aeroporti simili interregionali o regionali, lo renderà internazionale e intercontinentale. A margine della presentazione del nuovo sito internet dello scalo pescarese, l'assessore regionale al turismo Mauro Febbo ha annunciato l'arrivo di 16 milioni di euro per l'allungamento della pista dello scalo aeroportuale. Il primo obiettivo è quello dell'allungamento che finalmente dopo anni abbiamo avuto questa autorizzazione e per noi è di vitale importanza rispetto ad una strategia che ci siamo dati non solo come aeroporto ma soprattutto come turismo. Poi chiaramente dobbiamo intervenire e migliorare anche tutta una serie di servizi che dobbiamo dare perché io continuo a insistere, se riuscissimo a diventare il secondo aeroporto di Roma sarebbe veramente un risultato importante. L'obiettivo comunque rimane arrivare a fine mandato ad avere un milione di passeggeri e mi sembra che con tutta una serie di attività tra noi e la saga che esiste l'aeroporto che vengono messe in campo è un obiettivo che possiamo tranquillamente centrare. Abbiamo un cronoprogramma ben preciso che non prevede la chiusura dell'aeroporto ma lavori a step e man mano il cronoprogramma è quello la regione per quanto ci riguarda e vigilerà per rispetto al cronoprogramma. E poi ancora si parla sempre di occupazione e di lavoro su pagina 3 del centro Amazon apre in Abruzzo previste 105 assunzioni a San Giovanni Tiatino, un centro smistamento del Colosso del Commercio Online, ci saranno 20 posti di lavoro diretti nella struttura e 85 nelle società dell'indotto. E poi ancora di spalla c'è questo richiamo con le parole del segretario della Cisla Abruzzo e Molise Leo Malandra che dice regione ancora in ritardo sulla crescita. Andiamo avanti pagina Abruzzo ecco qui regione braccio di ferro sul bilancio primo stop alle leggi volute dalla Lega i revisori dei conti danno parere favorevole ma spunta l'atto dell'ufficio legislativo che può rovinare i piani del carroccio. e Sospiri rispedisce al mittente le accuse di scambio con la nomina di Gatti. E poi ancora in taglio alto Salvini raddoppia dopo Chieti va a Pescara il leader della Lega annuncia per lunedì una passeggiata tra le bancarelle del mercato di via Pepe. Poi di spalla Marsiglio e Veri. Sanità è finita la stagione dei tagli. Andiamo avanti con le pagine della cronaca di Pescara i progetti sulla viabilità bus elettrici sulla strada parco test del ministero sulla sicurezza. L'assessore Mascia siamo vicini all'acquisto degli otto mezzi green si può partire già nel 2021 sopra il luogo della commissione del dicastero dei trasporti. e aggiunge poi Alessandrini del Movimento 5 Stelle tracciato in idoneo. E poi ancora prosegue Erika Alessandrini. L'indagine ministeriale richiesta dalla deputata Grippa potrebbe confermare che l'area non è adatta al trasporto pubblico. Invece la replica dell'assessore comunale Mascia. Roma vede di buon occhio la conclusione del contenzioso con Alpic per avviare il passaggio dei mezzi entro due anni. Proseguiamo. Nuova pista ciclabile alla Pineta. Maggioranza spaccata sui lavori. 13 consiglieri approvano un ordine del giorno per bloccare l'intervento che cancella 45 posti auto. L'assessore Mascia avverte così saltano i finanziamenti. Nel Merino anche il piano di Viale Marconi. Proseguiamo. Siamo alla cronaca. Donna trovata morta in un lago di sangue. Polacca di 56 anni viveva con altri senza tetto in un casolare abbandonato. La prima ipotesi è una caduta accidentale dalle scale. Qui una serie di foto che ritraggono appunto l'intervento di magistrato e di uomini della squadra mobile proprio sul posto dove è stato rinvenuto il cadavere. Andiamo avanti i progetti per la città. Via Libera alla nuova Lega Navale. Entro aprile partono i lavori. Masci promette tempi brevi per l'avvio della riqualificazione dell'impianto sportivo alla Madonnina. Sono previsti rimessaggi, una clubhouse e un osservatorio per gli uccelli richiesto dagli ambientalisti. Ascoltiamo allora il sindaco di Pescara, Carlo Masci, proprio su questi lavori imminenti. Sono veramente soddisfatto, contento perché oggi possiamo dire che abbiamo raggiunto un risultato storico. Finalmente la Lega Navale avrà una sede che potrà definirsi sede, che sarà una delle più belle d'Italia per una prestigiosa attività che è quella navale che lega Pescara ancora di più al mare perché noi sosteniamo sempre che Pescara è una città che vive col mare, che vive sul mare, che vive per il mare, però le infrastrutture legate al mare spesso trovano degli stalli. Invece abbiamo sbloccato in tempo reale, insieme alla regione e alla Fondazione Pescara Abruzzo, il finanziamento per dotare la Lega Navale di una sede prestigiosa, in una collocazione strategica al ridosso del ponte del mare, in una zona di grande rispetto ambientale. Quindi l'intervento sarà un intervento che terrà conto di tutte queste caratteristiche e che sicuramente avvicinerà ancora di più i ragazzi, i bambini, i giovani a questo sport meraviglioso che è la vela legato al mare. È un risultato complesso, devo dire, che però è stato raggiunto col cuore di tanti che si sono impegnati. Il primo lotto, che è un lotto funzionale, di oltre 800 mila euro, prevede la realizzazione della clubhouse, del rimessaggio, delle aree a servizio, della Lega Navale e delle imbarcazioni. Poi con il secondo lotto l'opera si completerà, ma già il primo lotto permetterà di avere un'opera veramente di grande qualità ambientale, di pregio architettonico, tutte caratteristiche che sicuramente eleveranno Pescara a un livello nazionale e internazionale per quanto riguarda le attività della Lega Navale. Prostiamo sempre sul centro, sempre a Pescara, nei distretti sanitari 10 defibrillatori per il primo soccorso. Gli apparecchi consentono di intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco. Corsi per imparare a utilizzarli. Pagina di Montesilvano. Domani l'inaugurazione apre al traffico il terzo ponte sul Saline. L'infrastruttura unirà l'area dei grandi alberghi alla Marina di Città Sant'Angelo. È dotata anche di una pista ciclopedonale. Si chiamerà Delli Castelli, porterà il nome dell'unica donna sindaco di Montesilvano. La realizzazione rispetta anche l'area dove nidifica il fratino. Ecco qui alcuni dei numeri che riguardano proprio la struttura. È anche una foto prima appunto dell'inaugurazione. Sempre a Montesilvano, raid notturno. I ladri penetrano in comune ma restano a bocca asciutta. Proseguiamo. Siamo a Spoltore. Oggi l'ultimo saluto a Gabriella e Paolo Mortinello Schianto. Alle 10 e 30 funerali nella Basilica dei Colli a Pescara. Il comune di Spoltore sarà presente con un gonfalone. Proseguiamo. Bus Francavilla-Roma a partire dall'estate 2020. Vertice in comune tra sindaco, assessore e rappresentanti di quattro ditte di trasporti. La fermata individuata in zona stadio. Tempi di percorrenza di 2 ore e 45 minuti. Andiamo ora in zona Vestina. Allarme povertà nell'area Vestina. Tre famiglie su quattro sono italiane. Quasi 6.000 persone hanno soffrito dell'Emporio Solidare per ricevere vestiti, scarpe e giochi. La Caritas di Penne assicura cibo a residenti di 10 comuni. L'assistenza garantita da 52 volontari. E poi a Popoli, Fiume Giardino, controlli per tre anni. Il progetto di comune Arta per verificare le condizioni dell'ecosistema. E ora le pagine di Chieti. Siamo alla politica verso le elezioni. L'incontro segreto. I partiti preparano la coalizione per l'alternativa al centro-destra. Ci provano esponenti dell'opposizione della società civile. Zappalorto si andrà al di là dei partiti. Marchionno, Chieti Laboratorio Politico Nazionale. Marco Tullio, noi di Idea Abruzzo ascoltiamo tutti. Sul fronte al Movimento 5 Stelle le parole della deputata Torto. Nessun dissenso, solo normale dialettica. Andiamo avanti. Siamo a Lanciano. La morte di Don Enzio, addio al Vescovo Sognatore, era per la Chiesa Libera. L'ultimo saluto ad Antonio. Aveva scelto le letture e Valentinetti per l'Omeria. Non voleva che si parlasse di lui, ma del bisogno di divulgare il Vangelo. Andiamo sulle pagine di Teramo. Siamo alle notizie che arrivano dalla provincia. Rischio paralisi in A14. L'appello dei sindaci. Il Viedotto va dissequestrato di Buonaventura. I colleghi chiedono al giudice il ripristino del tratto all'altezza del casello di Roseto. Vertice in Prefettura. Poi in taglio medio a Colledara chiude la fabbrica dei prosciutti in 50. Perdono il posto di lavoro. Poi ancora siamo sulla costa a Silvi. Sul tracciato ferroviario arrivano le barriere antirumore. L'annuncio del sottosegretario D'Annuntis dopo un incontro avuto a Roma con i vertici della RFI. Il sindaco Scordella. Intervento necessario dopo le tante proteste di turisti e residenti. Sempre a Silvi. Danneggiato il pontile galleggiante. Le violente mareggiate hanno distrutto i basamenti della struttura inaugurata nel mese di agosto. E ora le pagine dell'Aquila con la vicenda della casa dello studente. La sentenza pilota stressata dopo il crollo sarà risarcita alla giovane estratta viva dalle macerie. Riconosciuto un danno per 50.000 euro causato da sindrome post-traumatica. A pagare saranno la Regione, l'Azienda per il diritto allo studio e i quattro condannati per omicidio colposo. La decisione è immediatamente esecutiva. Poi ancora in Comune arriva l'app per le emergenze. Il progetto Comunicare per proteggere poggia sull'uso del cellulare in caso di calamità e altri eventi. Chiaramente il Comune è quello dell'Aquila. Andiamo avanti. Ultima pagina che vediamo in questa prima parte di Mattino 6. Stroncato da infarto Vincenzo Delia, voce delle calze nere a Pescina. Era andato a riprendere la moglie sul posto di lavoro. Aveva 69 anni, una vita dedicata alla musica. Oggi l'addio. In taglio medio leggiamo sempre all'Aquila in orbita satellite radar costruito da Tales Alenia. E poi ancora in taglio basso è morta Lauretta, la mascotte del parco. A Pescassero l'orsa stroncata da una malattia nel 1993 era stata salvata da alcuni escursionisti. Ci fermiamo per la prima parte di Mattino 6. Diamo ora la linea alle previsioni meteo, poi alla pubblicità. E poi rientriamo per leggere il messaggero alla città, le pagine dello sport e vedere altri servizi. Di nuovo buongiorno, seconda parte di Mattino 6 con il messaggero. Vediamo subito eventuali ricadute di queste nozze, di questa fusione tra i due colossi dell'automobile, appunto FCA e PSA. Ecco qui, fusione tra FCA e PSA. La Sevel attende di capire le strategie. L'intesa tra i due gruppi operativa già da tempo in Abruzzo per produrre il Ducato. Venerdì incontro a Mirafiori sulle prospettive dello stabilimento della Val di Sangro. I timori riguardano i livelli occupazionali della fabbrica di Atese in relazione alla integrazione tra le società. Sullo sfondo la delocalizzazione di quote di mercato già definite per costruire mezzi in Polonia. Poi in taglio basso, questo articolo scritto dall'economista Stefano Cianciotta, l'automotive, grande esempio di crescita. Adesso le politiche per le filiere integrate. Poi ancora, dopo i settori primari, anche l'indotto deve agganciarsi allo sviluppo, processo fondamentale che spetta alla Regione. Pagine della cronaca di Pescara. Acquisti sul web. I consigli antifrode. Leggiamo ancora. Occhio al bidone in rete. Decalogo della Polizia Postale con le norme per evitare truffe nello shopping natalizio. È importante avere antivirus con browser aggiornati e utilizzare siti certificati per pagamenti in sicurezza. Fenomeno in aumento, tante richieste di aiuto e segnalazioni di tentati raggiri, dice la dirigente Elisabetta Narciso. Poi ancora, nel 2018, sono state quasi 11.000 le denunce ricevute a Pescara con 15 arresti per reati finanziari. Poi ancora, stop alla ciclabile su Via della Pineta, picconata della Lega. L'Aula approva l'ordine del giorno del consigliere Foschi e un chiaro alto là all'assessore Mascia a evitare il taglio di 50 posti auto. E poi ancora, in taglio basso, Aism da 25 anni nel nome di Serena contro la sclerosi multipla un esercito di 300 volontari. La Presidente Scogna. Prossimo obiettivo, il dopo di noi. Andiamo avanti, siamo alla cronaca. Trovato un cadavere sul lungo fiume con la testa fracassata. È una polacca di 56 anni, trovata nell'area sotto Ponte Flaiano. L'ipotesi della caduta prevale sull'omicidio. Disposta l'autopsia. E poi ancora, andiamo avanti, scienziata pescarese, donna dell'anno, Antonella Santuccione Ciada, premiata in Svizzera per la ricerca sull'Alzheimer. E poi ancora, separazione tra Brioni e l'amministratore delegato Malverdi, il nuovo scossone, allarma i sindacati, arriva Benabà di azienda sempre più francese, dichiara Piersante della Will, il 7 gennaio, festa per i 75 anni del marchio. Noi andiamo a vedere il servizio realizzato dalla redazione di Vestina News. Tanta incertezza quest'anno sotto l'albero di Natale dei dipendenti Brioni di Penne. Questa volta, a impensierire i lavoratori e le sigle sindacali, la notizia dell'addio a fine anno di Fabrizio Malverdi, amministratore delegato di Brioni. A dare annuncio di questa decisione, Jean-François Palou, amministratore delegato del gruppo Kering, che dal 2011 ha rilevato l'azienda di alta moda dell'area Vestina. Considerato l'importanza di Brioni per il nostro business dei prossimi anni, si legge nella nota di Palou, abbiamo deciso di nominare insieme a François Pinot Mehedi Benabagi già a partire dal mese di gennaio 2020. Benabagi conosce già il marchio e la storia Brioni, avendo in passato già lavorato come direttore delle strategie sviluppo. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno, dopo che lo scorso 11 dicembre era stato avviato a Roma presso il Mise un tavolo tecnico che desse sicurezza e cercasse di risollevare le sorti di un'azienda, che da decenni garantisce un posto di lavoro a tante famiglie dell'area Vestina. Quello che dicevano i sindacati corrisponde al vero, quindi abbiamo lanciato un input che si è rilevato certo con l'addio di Malverdi, quindi qualcosa è stato sbagliato e soprattutto c'è un'azienda che dovrà prendere atto. Noi crediamo che è finito il momento di giocare col fioretto, ma bisogna giocare con i fatti, con le situazioni vere, con soprattutto l'intervento industriale di piani seri dilazionati nel tempo, solo così si può cercare di salvare questa realtà. Ormai siamo abituati a questi cambi, speriamo che ogni volta che c'è un cambio, che quello che arriva sia migliore del precedente. Gli obiettivi infatti nostri per questa trattativa che stiamo conducendo dall'11 dicembre è proprio quella di rinnovare un contratto integrativo dignitoso, che porta salari ai lavoratori e che è un accordo che faccia sì di tornare a una flessibilità almeno contrattuale, cioè quella prevista dal contratto nazionale, quindi alle 104 ore anche meno. Ricordiamo che Conquiti è ancora in atto una riduzione di orario, è ancora in atto una flessibilità e sono sacrifici che le famiglie di questo territorio stanno affrontando per mantenere l'occupazione. Noi come sindacato possiamo dire a chi deve arrivare a presto, già dal primo gennaio, che bisogna lavorare per riportare il giusto onore a queste famiglie, il giusto valore economico al territorio e giustamente ridare dignità a tutte queste persone. Non possiamo più permetterci che si lavora e non si vede mai l'obiettivo. Pagine dell'Aquila sul messaggero, dimensionamento scolastico, anche Fioramonti vuole lo stop. Dopo aver ascoltato i comitati cittadini, il ministro ha inoltrato l'istanza a Marsiglio, polemica sull'assenza delle istituzioni biondi, smentisce frizioni, era concordato. Critiche su Invitalia come stazione appaltante per la ricostruzione degli istituti. Poi ancora andiamo avanti, Università Performance Mondiali presentati, i dati di alcune agenzie internazionali di ranking, l'Ateneo è ampiamente tra i primi mille su scala globale, certificate le eccellenze in matematica e fisica dell'atmosfera, premiate qualità dell'insegnamento e attenzione alla sostenibilità. Poi ancora a casa dello studente 50 mila euro a un sopravvissuto, proseguiamo, siamo a Pescasseroli, morta l'orsa regina del centro visite, Lauretta aveva 25 anni, era ospite del Parco Nazionale d'Abruzzo dal 1993, quando fu trovata moribonda da escursionisti tedeschi, nutrita e accudita dal personale, riuscì a superare la crisi, ma fu destinata a fare l'ambasciatrice per turisti e visitatori. È stata colpita dalla stessa malattia di yoga, deceduta qualche anno fa all'età di 30 anni. Proseguiamo e siamo sulle pagine di Chieti, arriva il colosso Amazon, farà oltre 100 assunzioni, sicismondi di Logistics in grado di fornire servizi innovativi ai clienti. Il sindaco di San Giovanni Tiatino Marinucci, per la selezione adesso si rivolgano alla San Gio Lavoro, a San Buceto l'apertura di un nuovo deposito smistamento delle merci. Poi per la cronaca di questi due richiami, Altricalle muore per overdose elettricista di 49 anni, e poi la volante furto in un circolo arrestato Canterini. Andiamo avanti, Siamo nell'area Frentana, Sasi 30 milioni contro la crisi idrica. L'emergenza proda a Roma sul tavolo del Comitato, criticità e polemica per i rincari delle tariffe su bollette retrodatate. Il Presidente basterebbe già realizzati lavori importanti in fase di chiusura ai cantieri per potenziare gli impianti di depurazione. E allora vediamo il servizio. Un anno intenso e impegnativo, così il Presidente Gianfranco Basterebbe, ha descritto il 2019 per la Sasi S.p.a., società che gestisce il servizio idrico integrato nel Chietino. Si stanno chiudendo alcuni cantieri nel settore depurazione, sono in corso interventi per nuovi impianti e sono stati potenziati alcuni impianti esistenti. Il 2019 segna anche la fine di due complicate antiche vicende, quelle relative alla società del patrimonio, IsiSRL e il passaggio della gestione dei depuratori dall'Arap alla Sasi. Ma il primo problema per i 160.000 utenti Sasi sono le bollette recapitate in ritardo e già scadute. Risolto il contratto con l'operatore privato a gennaio per gli stessi problemi, adesso le bollette sono recapitate dalle poste italiane, ma anche nello scorso mese di novembre si sono registrati ritardi. Dalla Sasi assicurano la mora non sarà dovuta. Nel frattempo la Sasi sta approntando il servizio dell'avviso di bolletta per e-mail su richiesta dell'utente. Per spiegare agli utenti la nuova articolazione tariffaria, la Sasi divulgherà due video tutorial che spiegano anche la corretta lettura della bolletta. Sul fronte depurazione basterebbe ricordato il nuovo impianto di Fossacesia, che serve anche altri comuni, realizzato in cofinanziamento. Sono 149 i depuratori gestiti dalla Sasi. Di questi, 76 saranno portati a completa efficienza, con un investimento di 15 milioni di euro, mentre altri 5 milioni saranno destinati all'eliminazione delle numerose fosse IMOF. Stipulato un rapporto di collaborazione con l'Università di Teramo, il primo passo consisterà nell'aderire con quattro giovani laureati aziendali al Master di secondo livello in diritto dell'energia e dell'ambiente. Pagine di Teramo sul messaggero Sottanelli. Nessuno accusi Tercas per la crisi della popolare di Bari. Le parole sempre di Sottanelli. Le nostre imprese sane. Abbiamo conferito dei crediti di qualità. I politici e il mondo economico locale avrebbero dovuto difendere il territorio. Voci controcorrente dal Terramano sull'acquisizione che, secondo le accuse, avrebbe affondato l'Istituto Pugliese. Di spalla leggiamo Teatro Romano, a Teramo ovviamente, i lavori entro la primavera del 2020. Siamo sulla costa, in particolare con la vicenda legata alla A14. A14 è ingorghi, boom di risarcimento. Molti automobilisti chiedono i danni ad autostrade per i rallentamenti del traffico e i forti ritardi nel lavoro. In difficoltà anche le attività produttive, distributori, bar, ristoranti, meccanici con un calo di affari del 60%. Poi a Martinsicuro, centro commerciale Grillo, incombe la demolizione, posti di lavoro a rischio. In taglio basso, bimbo con sindrome rara, la nonna, mancano strutture specializzate. Il piccolo è affetto da una malattia che si chiama Pandas. era aggressivo, abbiamo avuto difficoltà a fare la diagnosi, ora vive in un istituto e va a scuola. Lasciamo il messaggero per ora, ci torneremo con lo sport. Andiamo sulle pagine della città. Siamo, ecco qui, a pagina 5. Economia. Tercas ha peggiorato i conti della Popolare di Bari. Dunque, un titolo che va controcorrente rispetto alle parole che abbiamo visto in precedenza sul messaggero pronunciate da Giulio Cesare Sottanelli. Nell'ispezione 2016 di Banca Italia, l'elenco dei problemi che hanno portato al commissariamento, corteo di proteste davanti alla sede centrale della banca, incontro in procura tra i commissari e i magistrati che stanno indagando. Andiamo avanti. Ricostruzione e chiarezza sulle case Ater agli sfollati. Il sindaco d'Alberto contesta gli annunci, i tempi e la semplificazione per l'assegnazione delle case dei costruttori. L'assegnazione non verrà completata prima della fine di gennaio. Per il sindaco non si possono prendere in giro i cittadini. Andiamo avanti. Aiutate i bimbi malati di Pandas. L'appello della nonna di un bimbo terramano affetto dalla rara malattia senza centri specializzati. Sindrome Pandas, disordine neuropsichiatrico infantile autoimmune associato a infezioni da streptococco. Proseguiamo. Siamo a pagina 9. TEAM rilancia l'impianto di cremazione previsto da 10 anni, pronto da almeno 3. il progetto ripreso in mano dal presidente Ranalli sarà presto realtà. Pagina 10. Cicogne e miopi per promuovere affidi e adozioni. L'assessore sociale Mistichelli snocciola i dati dei servizi sociali ai cittadini degli ultimi 10 anni. Poi ancora accertamenti alla mensa della San Giorgio, frammenti marroni nella pasta, scattano segnalazioni ed analisi sulle forniture. Poi ancora le notizie, ancora su pagina 17 della città, comuni costieri uniti per ottenere i finanziamenti. Sottoscritto nella sede della provincia il protocollo per la nascita dell'associazione temporanea di scopo. Le parole del presidente Diego di Bonaventura, gli interessi della comunità prevalgono su ogni colore politico ed è bello oggi vedere le amministrazioni mettersi insieme. Poi ancora siamo alle notizie che arrivano dalla provincia di Teramo, in particolare dalla Val Vibrata, di scarica a cielo aperto accanto al depuratore. A Villarosa, il comune di Martinsicuro interviene tramite un'ordinanza e impone al proprietario di pulire l'area. Se il proprietario non rimuoverà i rifiuti potrebbe scattare la denuncia nei suoi confronti. A Giulianova approvate le tariffe della tassa di soggiorno, la Giunta vara i nuovi prezzi sulla base della modifica al regolamento arrivata dal Consiglio. A Roseto devastati gli spogliatoi del campo sportivo, i mandali notturni distruggono i muri della struttura di campo a mare, nuova discarica abusiva sul Vomano. Poi ci sono le parole dell'assessore Nicola Petrini, a Vilente dover correre dietro ai mandali con un intero territorio da manutenere. Sempre a Roseto bastano 20 metri per riaprire il casello, al tavolo in prefettura Autostrade illustra la richiesta di dissequestro parziale inviata alla procura di Avellino. Il sindaco di Girolamo, il sindaco di Roseto, teme che i tempi per l'eventuale accoglimento della richiesta siano troppo lunghi. Passiamo allo sport. Ecco qui con le parole del centrocampista del Teramo Ilari. Guardo il bicchiere mezzo pieno. Superare le difficoltà della prima parte è stato complicato. Da lì dobbiamo ripartire nel girone di ritorno. Il centrocampista Biancoroso è stato l'autore del gol vittoria contro il Bisceglie, che allo stato attuale è anche l'ultimo successo in campionato della squadra di Tedino. Intanto, come abbiamo già letto, stop confermato. La Lega Pro sciopera, dunque il Teramo tornerà in campo nel 2020. Andiamo a vedere le pagine dei quotidiani nazionali, le prime pagine di Gazzetta Corriere e Tutto Sport. Ecco qui l'apertura della Gazzetta Sinisa, Stella tra le stelle, la festa dei Gazzetta Sports Award, Mihailovic, leggenda 2019, Vedo la luce, Mancini e Pellegrini, uomo e donna dell'anno. Sotto la testata, vola CR7, vola, testa, gol. Ronaldo svetta a 2,56 metri, anche Di Bala assegno. Juve a più 3, magia di Cristiano. Le parole di Ragneri sembrava uno della NBA. Poi ancora andiamo sul Corriere dello Sport. L'apertura, volare, Ronaldo segna con l'ascensore. 2 a 1 alla Samp. Inter a meno 3 e domenica Supercoppa con la Lazio. Il tridente Illumina Marassi, splendido gol di Di Bala, pareggio di Caprari, poi il capolavoro di Cristiano sostituito. Higuain si infuria. Sarri capiterà ancora. E poi il salto di Claudio Lotito infiamma la sfida d'Arabia. Luisa Alberto sta bene, oggi lo sbarco a Riad. Andiamo ora sulla prima di Tutto Sport. Sarri, successo numero 100 in A. Il marziano fa volare la Juve. CR7 firma la vittoria a Marassi con uno straordinario gesto atletico dopo lo splendido gol di Di Bala e il momentaneo pareggio di Caprari per la Sampdoria. Ecco qui 2 metri e 56, 256 centimetri, 71 centimetri appunto la dimensione dello stacco. In taglio basso, attento, Milan Ancelotti vuole Ibra. Lo svedese già tra gli obiettivi del tecnico a Napoli nella lista dei rinforzi chiesti all'Everton. Proseguiamo e torniamo sui quotidiani locali. Andiamo sul messaggero con le parole del capitano del Pescara. Ora ancora ai box, Vincenzo Fiorillo. Capitan Fiorillo punta il Livorno nel mirino del portiere del Pescara. Il match di Santo Stefano al Picchi sarebbe l'ex di turno con Trapani domenica. Toscani e Chievo sono tre partite top. Dobbiamo essere pronti. Mi dà troppo fastidio stare fuori. Il suo prossimo vice potrebbe essere da gennaio il 36enne Federico Marchetti. Ascoltiamo anche noi le parole di Vincenzo Fiorillo. Ed eccolo Vincenzo Fiorillo, capitano del Pescara. Ormai fuori da alcune settimane. Inutile negarlo l'assenza di Fiorillo, un'assenza pesante nel Pescara. Senza nulla togliere, ovviamente hai l'ancastrati. Ma purtroppo l'infortunio non è stato un infortunio da poco conto. Perché comunque ci sono state due fratture alla mano. Adesso clinicamente sono guarito. C'è solo da lavorare un po' su un problema che è un versamento che si crea dopo nell'osso. Nel mio ruolo ovviamente sui traumi mi provoca dolore. Ma stiamo facendo tutte le terapie del caso tutto il giorno per provare perlomeno a rendermi disponibile il prima possibile. Potresti giocare la gara di Livorno o comunque quella con il Chievo? Ci sono possibilità? Ma quello è il mio obiettivo. Però devo anche essere molto onesto con me stesso e valutare anche io da solo giorno per giorno la mia condizione. Perché avere una frattura, un callosso alla mano dopo una frattura per un portiere più di tanto non si può accelerare. Dalla tribuna si vedono probabilmente meglio le partite. Quindi Vincenzo la domanda è questa. Che cosa sta accadendo a questo Pescara? Come vedi questo Pescara delle ultime settimane dalla tribuna? Risultati negativi e anche gioco non all'altezza delle precedenti esibizioni? Io credo che abbiamo dimostrato magari un po' di altalenanza, di non essere continui ma dall'inizio dell'anno sono state davvero poche le non prestazioni di questa squadra, escludendo un attimo per un attimo i risultati. E' vero che ultimamente abbiamo avuto questa leggera flessione ma la Serie B la conosciamo bene così con due vittorie ti catapulta con l'entusiasmo alle selle nei primi 3-4 posti e viceversa in un attimo scivoli giù e le valutazioni diventano tutt'altro che positive. Adesso abbiamo 9 punti a disposizione e sta a noi raccoglierne il più possibile. Bene proseguiamo con le parole anche di Luciano Zauri sempre sul messaggero abbiamo bisogno abbiamo solo bisogno di una vittoria per il basket Sharks De Fabritis spalla ideale di Jones leggiamo in taglio basso il baby sull'americano porta leadership punti ed esperienza Capitan Pieric e lui costituiscono il nostro riferimento. Poi ancora per la Serie C sciopero il Teramo non gioca defiscalizzazione l'annuncio inserata dopo il lungo vertice al MEF gare annullate poi le parole del centrocampista Ilari basta alibi dobbiamo evitare disattenzioni che ci costano sempre molto caro. Per il mercato dei direttanti Camerlengo ad Avezzano Manfredi al Giulianova. Andiamo a vedere ora le pagine del centro le pagine dello sport prima di chiudere sul fronte Pescara ci sono le parole del miglior marcatore stagionale Cristian Galano il Pescara c'è ma qualcosa va rivisto servono più coraggio e cinismo per prendere il volo. Poi prosegue Galano a volte ci tiriamo troppo indietro il possesso palla fine a se stesso inutile Zauri mi sta dando quella fiducia mancata a Foggia e poi in taglio basso in avanti balottaggio Maniero Borrelli domenica tornerà Palmiero dall'inizio per Fiorillo appuntamento al 2020. Serie C sciopero confermato domenica non si gioca si riparte il 12 di gennaio defiscalizzazione dei club manca l'intesa tra Federcalcio e Governo. Ilari fatti pochi punti dopo la sosta dobbiamo spingere poi per quanto riguarda il campionato di eccellenza siamo ai verdetti di Coppa Italia Castelnuovo e Torrese di misura. L'andata delle semifinali Nero Verdi piegano l'Acqua e Sapone con Fabrizzi Criscolo stende lo Spoltore dunque questi risultati Castelnuovo Acqua e Sapone 1 a 0 Spoltore Torrese 0 a 1. Serie D Avezzano firma Camerlengo Notaresco Gomis l'affare salta e il Giuliano va stringe per il portiere Manfredi a Chieti ipotesi Tuninetti. Poi le ultime pagine che vediamo sul centro calcio donne il derby di sabato il Chieti vuole la rivincita Pescara la carica delle ex la sfida tra cugine si gioca a Francavilla in Paglio c'è il secondo posto. Le teatine hanno sempre perso negli ultimi tre precedenti Bomber di Camillo stavolta vinciamo noi la biancazzorra Stivaletta sfida il suo passato gara sentita Sessegno esulto. Poi ancora per il pugilato Savciuk e D'Alessandro campioni di pugilato la marsicana e il pescarese dopo il guanto d'oro e il titolo universitario salgono sul gradino più alto del podio degli assoluti conclusi. Domenica a Roma. Noi finiamo qui con questo appuntamento con Mattino 6 che torna chiaramente domani alle ore 8. Vi ricordo gli appuntamenti principali informativi con la nostra emittente le edizioni del TG6 delle ore 14, 19 e 23. Grazie a Claudio Di Giacomo in regia e grazie a voi per la cortese attenzione e buona giornata. Grazie a tutti.